L'ultimo saluto a Nelson Mandela arriva anche dalla musica e dal ritmo dei guerrieri Zulu. A poca distanza dal luogo di sepoltura di Madiba, a Kunu, un gruppo di danzatori tradizionali ha inscenato il proprio omaggio a un uomo che ha segnato la vita di tante persone. Madiba significa molto per noi, molto di più delle tante parole che possiamo utilizzare. Tutto ciò che ha fatto, tutto quello che ha detto, è un'icona globale. Non troppo distante, mentre il leader della lotta all'Apartheid veniva sepolto, una cerimonia lo ha voluto ricordare al museo che Kunu ha dedicato alla sua memoria. Uno dei tanti modi che in tutto il Sudafrica sono stati scelti per ricordare Mandela.